Ciao ragazzi, giornata di sole pazzesca, l'ideale per ricaricare i pannelli solari alle mie spalle che stanno fornendo corrente a questo pacco batterie che serve a funzionare all'aperto questo impianto con il particolarissimo gire dischi dell'IKEA, si chiama OBE CRANZAD sì, è quasi impossibile da leggere e devo essere onesto, suona di merda bene ragazzi, vi presento quindi come è costituito questo particolarissimo impianto sotto un bellissimo sole d'estate innanzitutto i diffusori sono le mitiche duetto, quelle realizzate sul progetto di Mike Borghese e con l'aiuto di Gianni che ha fatto tutta la parte di legno, video dedicato qui sopra mentre l'amplificatore, questo piccino qui con sopra le due valvole che sono accese non le vedete sotto il sole e questo è un prodotto particolare che è lo stadio pre-valvolare mentre il resto, quindi lo stadio di potenza è a stato solido quindi in realtà spinge molto bene e all'aperto, fidatevi ragazzi, fai dei numeri prima ho detto il suono di merda, il suono di merda non è colpa di loro due loro vanno benissimo, è colpa purtroppo suo questo prodotto dell'IKEA molto particolare, l'Obe Granzad che innanzitutto è tutta plastichina ragazzi, ve lo faccio sentire? sì, il suono è decisamente di leggerino, infatti pesa 1,6 kg costruzione comunque di design, è stata fatta in collaborazione con la Swedish House Mafia un gruppo di DJ, di praticamente musicisti che fanno musica elettronica svedese con il progetto di design di Friso Wiersma, si sto diventando madrelingua svedese di basse c'è una cosa buona, lo vedete qui, la testina dell'audio tecnica la classica AT3600L, che non è male, anche il braccio in alluminio non è male ma subito problemi, qua dietro il contrappeso è, in realtà è fisso, non è regolabile quindi non possiamo cambiare testina seconda cosa, il movimento del piatto, adesso lo faccio girare lo vedete, non è perfettamente regolare ondeggia, quindi insomma non è messo bene con un perno perfettamente in asse l'altro problema, ve lo faccio sentire andando sul canale RCA eh sì, l'avete sentito? una ronza nettissima prende e presta dal fatto che c'è probabilmente un lupo di massa ma attenzione, se noi prendiamo uno speaker quindi non un sistema di amplificazione vera e propria quella ronza non c'è quindi è un problema che volendo con un sistema per andare a isolare la massa si potrebbe risolvere perché in realtà per il resto, ragazzi, non è che suona poi malvagio collegato infatti a uno speaker bluetooth tramite il cavo poi da RCA a jack in dotazione e abbiamo anche due bei tastini, insomma che permettono accendere e spegne e ripassare anche da 33 a 45 giri e il design, hanno detto, è unico nel suo genere insomma, a me ricorda un po' Irea, siamo onesti e mi ricorda poi il Sony Discman questo qui che era il lettore cd portatile più piccolo al mondo ma la vera figata, l'avete capito, è questa io sto utilizzando per alimentare tutto questo bestione dell'Ecoflow alimentato in questo momento da questi pannelli solari e sta facendo in un certo senso un piccolo miracolo lui si chiama River 2 ha tutta una serie di prese sia quelle USB ma anche l'USB-C da cui tira fuori la bellezza di 20V su 5A può alimentare la classica presa accendisigarista nascosta, adesso la scavicchio, adesso la scavicchio adesso la scavicchio eccola qui e anche delle prese a 12V su 3A il mio amplificatore qui lavora a 18V ma potrebbe andare volendo anche qui ma infatti l'ho collegato qui sulle prese a corrente alternata che tira fuori la bellezza di 800W infatti adesso vi faccio vedere un giochino divertente ok, adesso vedete sul display vedete quei 88 sopra in input e quello che stanno producendo i pannelli solari e si sta ricaricando quindi stanno lavorando molto bene ma adesso è caldo infatti di sole ce n'è un bel po' ma io voglio fare una prova se avessi le mani fredde un ventola con elemento riscaldante da 800W la posso accendere? e si che la posso accendere non so se sentite il suono della ventola e dovreste vedere anche qua adesso metterlo a fuoco sarà difficile che il consumo sta aumentando 193W, 198W, 202W il bello è anche che riusciamo a tenere tutto sotto controllo e all'aperto non c'è trucco, non c'è inganno stiamo facendo funzionare un impianto audio si adesso è spento ma il piatto sta girando e anche una stufetta elettrica ma adesso che dite? ascoltiamo un po' di musica ragazzi sono sotto un sole pazzesco sto anche leggermente sudando il bello è quando siamo arrivati qui con mio padre a montare tutto vi faccio vedere il timelapse di quando abbiamo assemblato invece era freddino adesso il sole è stupendo l'ideale per i pannelli l'ideale magari per ascoltare un bel brano della PFM ma no, in realtà meglio di no perché altrimenti il copyright di YouTube mi sega vi faccio sentire un po' invece di rock vecchia scuola e sentirete insomma un rumore abbastanza fastidioso altra cosa fastidiosa inizio a parlarvi del prezzo di lui lui costa 129 euro che non è tantissimo ma non c'è l'alimentatore USB perché lui funziona a 5 volt di USB che alla fine è anche una cosa ecologica tutti ne abbiamo a casa una mi dà fastidio che per i 45 giri non c'è l'adattatore quindi se avete quelli con il forellino piccolo come 33 giri come questo lo possiamo utilizzare mentre se invece dovete utilizzare quelli col foro grande vi serve l'adattatore ma vi ricordo che in descrizione c'è il link col mio kit di sopravvivenza per quelli che amano il vinile e adesso passo all'altra parte e andiamo in play eh sì ragazzi questa ronza è proprio fastidiosa mentre la meccanica è fatta bene l'alzabraccio è alzato allineiamo la testina sulla traccia che vogliamo la prima e abbassiamo e va giù piano 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 fluida che è un piacere la prima e abbassiamo Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ma in realtà questo sistema ha senso, se avete un bel impianto Wi-Fi in casa potete prenderlo e portarlo fuori invece di utilizzare lo speaker Bluetooth, quello infame. E voi direte, sì, per utilizzare questo sistema, quanto costa? Allora, lui è l'EcoFlow River 2 Max da 512 Wh e lui costa 599€. Mentre i pannelli, che è la versione dei pannelli fotovoltaici meno performanti, da 110 W, costano 2,99€. Ma pur essendo quelli meno performanti, io qui ho visto che ho fatto pari patta. Tanto sto consumando col giradischio e l'amplificatore, tanto rientra. Sono qui da due ore, sempre col 100% di batteria. E se voi ovviamente quindi siete dei camperisti, ma ci potete anche fare il caffè, l'avete visto, è una soluzione. Ma anche amanti delle Fai che hanno un bello spazio all'aperto senza presa di corrente, vi cambia la vita. Mentre comprare lui questo Obe Granzad, onestamente ragazzi, non è che ve lo consiglio. Allora, se avete tutto Ikea in casa, avete lo speaker Ikea, quello suo abbinato, ha senso. E lì non ci sarà neanche la minima ronza. Mentre invece, se voi ci spendete anche 30€ in più, prendete l'House of Marley, col plinto in bambù, il braccio regolabile, sempre tutti i link in descrizione, e ragazzi, è tutto un altro suono. Ma, ripetevo, vi ripeto, all'aperto anche questi piccoli diffusori della Duetto Grande Mike suonano bene. E ve lo faccio anche sentire, a 3-5 metri, pur essendo piccole, un grandioso palcoscenico. Adesso vi metto su un bel brano via Bluetooth e sentite che musica. E sì, così avete visto anche il vostro Gianluca ballare, quindi esperimento all'aperto perfettamente riuscito. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video! Ciao a tutti!